grande 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 si si sono sono col video è grande piano 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 grande non sa che è un affario si che l'è addosso si che l'è addosso si ma te l'ho fatto sbagliata che ha fatto questa figa si si ma l'hai fatto bello ti ho detto che questo qua l'ho già preso in paio si è ingoiato grande ecco è quella che ho preso io forse è quella che ho liberato io proprio l'altra volta mi ha mangiato quella a oclu una volta anche a me mi ha mangiato tantissimo l'ho lasciato in acqua mezz'ora prima che fai la recuperazione grande oh primo episodio mi sembrava una trota così che figa la firma visto? te la lavo un po' è spettando troppo piano devo cambiare e esca vado con il suinoa che spara sul fondo devo recuperare veloce e loro attaccano secondo me se è per la trota che stiamo cercando guarda il ragazzo come ha funzionato questo è un pesce ce l'ho ce l'ho è accesa? si si c'è accesa lo sapevo che c'era questo zurinoia 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 bella anche fai col cellulare fai col cellulare che non so quanto batteria ho 8% lo sapevo lo sapevo che c'era bella bella veramente questa mamma mia che forza che fa andare contro corrente così tanto cazzo adesso la 35% un po' come la tua di stamattina o la prendi grande puttana questo puttana con lunghezza mi sa che ci siamo come la mia puttana grande Dani che ti faccio sul foto? zurinoia zurinoia vabbè prima slagnato bellissimo vabbè ciao ciao volevo risalire ancora hai visto? ce l'ho ancora in ma vabbè ti ho detto che dove c'è il sasso pac questo come l'ha saltato funziona la piccolina la piccolina però mi sa cosa gli ha dato cattivissima ti ho dato una legnata di quelle che ti ha ammazzato eh? ti ha legnato hai visto? si ma proprio ha saltato vai l'antra 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 è piena correndo peccato che non è rimasta su porca troia è piccolissima era l'antra vabbè qua sono tutte così è normale così piccole è la taglia è la taglia di questo posto la taglia media sono 15 20 guarda ce l'ho grande ho il godino no no che carina quella pupulina bella l'antra l'antra l'antra